La notizia del divorzio da Cortona del premio internazionale Fair Play Mecenate che si sposterà nella vicina Castiglione Fiorentino fa ancora eco, ma il primo cittadino Vignini non ne vuole sapere di commentare questa scelta. Con una punta di ironia anche sulla stampa locale, rinnova solo gli in bocca al lupo alla manifestazione, non aggiungendo sulla questione molto altro. Si dice invece molto impegnato a plasmare il cartellone della nuova estate cortonese che vedrà in primo piano ovviamente la sua creatura, il Cortona Mix Festival. Sulla pagina Facebook dell'evento nei giorni scorsi sono state ufficializzate le date della nuova edizione che prenderà il via il 27 luglio per chiudersi il 4 agosto. Dunque nulla cambierà sul piano dei giorni di durata della manifestazione, così come in fatto di format e collocazione. Ma di nomi papabili per ora non se ne parla. C'è chi dalle pagine dei giornali aretini azzarda qualche nome roboante come Bob Dylan, peraltro già appaventato lo scorso anno, o lo storico chitarrista dei Rolling Stone, Kate Richards. Ma ancora nessuna conferma o smentita arriva dalla Feltrinelli e compagni. Nell'estate cortonese è confermata anche la presenza del Festival del Documentario diretto da Luca Zingaretti. Ma ora le energie di Vignini sono tutte concentrate sulla nuova mostra del Mike, che resterà aperta per tutto l'inverno fino a maggio 2013.